Quando le persone sentono economia pensano soldi e quindi hanno l'idea che se dietro un'azione non c'è una transazione diretta in denaro, quell'azione non ha un valore economico. Ma non è così. Ogni azione ha un valore economico perché ogni azione ha un impatto. Il modo con cui scegliamo di spostarci ogni giorno ad esempio ha un impatto enorme sulla società e la Bikeonomics si occupa di dare un valore monetario alle conseguenze del nostro modo di spostarci. Se scegliamo di muoverci in macchina ad esempio contribuiamo al traffico stradale che fa perdere tempo a tutti quanti e causa quindi un danno economico importante perché nel traffico tipicamente siamo improduttivi. In maniera simile tutte le emissioni di ossidi di azoto, di particolato e degli altri gas nocivi che sono tipiche del traffico stradale sono un fattore di rischio per la salute fra i più importanti e hanno quindi un impatto economico negativo molto significativo. Viceversa se scegliamo di muoverci in bicicletta o a piedi non solo evitiamo tutti gli impatti negativi che sono associati all'uso di un mezzo a motore privato ma addirittura creiamo valore positivo per la collettività, per la società principalmente grazie al fatto che facciamo attività fisica che migliora la nostra salute e contribuisce a diminuire la spesa del sistema sanitario e tutte le conseguenze negative anche economiche che le malattie hanno sulla collettività. Questi tre sono solo alcuni degli esempi degli impatti positivi e negativi che una scelta di mobilità può avere e che possono essere valutati e quantificati in termini monetari attraverso la Bikeonomics. La scelta di muoversi a piedi o in bicicletta non è solo positiva in termini socio-economici per chi pedala o per chi cammina ma è positiva anche per chi guida la macchina che avrà davanti meno traffico, per chi usa i mezzi pubblici che arriveranno più puntuali e saranno più veloci e per chi anche lavora o studia da casa che avrà un sistema sanitario più efficiente e meno sovraccarico. Insomma è una scelta positiva per l'intera società.